Buonasera a tutti e bentrovati sulla pagina di diritto per tecnici. Oggi affrontiamo un tema abbastanza articolato che vede confrontarsi il codice degli appalti, il decreto legislativo 50 del 2016, sul mondo del codice civile, perché noi sappiamo che dopo la formazione e la stipulazione del contratto tra la stazione appaltante e l'appaltatore vengono applicate anche le norme del diritto comune, così come è disposto sia dal codice degli appalti stesso e anche richiamato dalla legge 241 del 1990. In particolare ci stiamo domandando quali sono i poteri che residuano nella pubblica amministrazione dopo la stipula del contratto per rimediare le patologie che possono esistere e si possono presentare. In particolare ci riferiamo alla revoca e al recesso. In passato già abbiamo fatto un intervento illustrativo dove abbiamo voluto identificare le conseguenze dell'annullamento di una giudicazione sugli effetti del contratto e abbiamo sviluppato con qualche approfondimento appunto le diverse tesi che si sono confrontate sul campo. In realtà in questa fase dobbiamo vedere la parte successiva alla stipula del contratto, mentre in quella presentazione ci domandavamo cosa accadeva se fosse stata annullata la giudicazione sulla sorte del contratto e abbiamo visto confrontarsi le quattro diverse tesi poi risolte con un intervento legislativo ben specifico che si rinviene all'interno del codice di giustizia amministrativa, il decreto legislativo 104 del 2010. Oggi invece ci stiamo domandando appunto i poteri che residuano nella pubblica amministrazione dopo la stipula del contratto. L'argomento coinvolge un contesto generale che non è riguardante le concessioni. Infatti vedremo che il codice degli appalti revoca il recesso, li statuisce esplicitamente per gli appalti di lavori e poi identifica l'applicabilità di queste regole che vedremo nell'articolo 108 e 109 del decreto legislativo 50 del 2016 le applica anche ai servizi e alle forniture. Per identificare bene ciò che stiamo analizzando va visto l'asse del tempo. L'asse del tempo come al solito riesce a farci identificare il contesto in cui stiamo applicando le norme. Se immaginiamo che a questo tempo t uguale 0 c'è il bando di gara, al tempo t uguale 1 c'è l'aggiudicazione, al tempo t uguale 2 c'è la stipula del contratto, noi stiamo analizzando quindi i poteri che residuano dal tempo t uguale 2 fino al termine dell'esecuzione del contratto e quindi ovviamente essendo una fase esecutiva il codice degli appalti rimanda alle norme di diritto comune lì dove non espressamente previste delle discipline ad hoc nel codice stesso. Quindi che cosa vuol dire in particolare? Vuol dire domandarsi i poteri che residuano e che ha il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento, il stazione appaltante e in quanto tale quindi tutto il contesto della pubblica amministrazione dopo la stipula contrattuale. Dobbiamo fare un passo indietro però, dobbiamo prima capire in senso generale quali sono gli strumenti rispetto alle patologie che possono essere o carenza di volontà o manifestazione appunto di una sorta di disservizio. Perché parliamo di patologie? Perché ovviamente i rimedi che ci stiamo domandando nella loro illustrazione sono quelli che possono essere attivati quando non c'è più l'intendimento di andare avanti con il contratto perché è successo qualche cosa. Gli istituti principali nel diritto comune sono la risoluzione e il recesso. In realtà il codice degli appalti disciplina l'articolo 107 anche la sospensione e poi vedremo nel dettaglio che cos'è. Tocca però capire, bisogna però capire, che cos'è la risoluzione e che cos'è il recesso. A volte magari il tecnico li confonde perché confonde la recessione con la risoluzione, con il recesso. Quindi per chiarire in maniera certa quali sono questi istituti e cosa applicano questi istituti bisogna fare un argomento, bisogna fare un approfondimento di carattere generale. La risoluzione è una modalità di scioglimento del contratto perché come sappiamo ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile il contratto ha forza di legge tra le parti. Avendo il contratto forza di legge tra le parti, ovviamente tutte le discipline che discendono dal contratto devono essere rispettate. Qualora ci fosse una patologia, qualora ci fosse un inadempimento, si deve porre il diritto, il quesito, di fornire degli elementi risolutivi di questi inadempimenti. Quindi dobbiamo vedere tutti i casi in cui a una certa patologia può seguire una risoluzione. In realtà che cosa intendiamo dire con questa slide in cui identifichiamo un flusso di lavoro di diritto e un flusso di lavoro con sentenza? Vuol dire che esistono casi specifici in cui, anche se il contratto ha forza di legge tra le parti, e il contratto è definito all'articolo 1321, l'accordo di due o più parti al fine di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, e quindi che porta anche degli interessi meritevoli di tutela, ci sono i casi in cui il contratto, pur avendo forza di legge tra le parti, viene sciolto di diritto, quindi senza l'intervento di un giudice, e quindi con la mera volontà unilaterale di una delle due parti, oppure ci sono casi specifici dove il contratto deve essere sciolto per il diritto civile, quindi per il codice civile, con una sentenza. Noi stiamo adesso identificando le definizioni macroscopiche di questi istituti per poi prenderli e riportarli nel codice degli appalti e vederne le differenze, e analizzarne le peculiarità. I casi della scioglimento del contratto e quindi della risoluzione per il codice civile nei casi di diritto. Diffida da tempere articolo 1454, che adesso vedremo, il termine essenziale, la clausola risolutiva espressa, mentre con sentenza è l'inadempimento, l'eccessiva onerosità e l'impossibilità sopravvenuta. Andiamole a vedere uno ad uno per capirli. Sono abbastanza intuitivi, ma è bene definirne come appunto vengono codificati dal codice. Dispositivo dell'articolo 1454, che tratta la risoluzione del contratto di diritto con la diffida da tempere. Diffida da tempere vuol dire che una delle due parti ha diffidato l'altra parte, il debitore, ad adempere, perché fino a quel momento il debitore non ha adempiuto. Alla parte inadempiente, l'altra può intimare per iscritto di adempere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risoluto. Quindi vuol dire che si iscriva la parte avversa al debitore, a colui che non sta facendo l'adempimento, e si intima l'adempimento, diffida da tempere. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diversa pattuizione delle parti, o salvo che, per la natura del contratto secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. Vuol dire che è sciolto, vuol dire che al di là dell'articolo 1372, dove il contratto ha forza di legge tra le parti, il contratto è sciolto, il contratto non esisterà più, e non si potranno più attuare tutti quegli obblighi derivanti dal contratto. Dispositivo dell'articolo 1457, termine essenziale per lo scioglimento del contratto nei termini del diritto. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza il contratto si intende il risoluto di diritto, anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione. Qual è il caso di scuola che si fa? Il sarto che deve produrre un abito da sposa, se me lo produce dopo il giorno del mio matrimonio, non avrà più senso, quindi il contratto sarà risolto di diritto, e le parti non dovranno più niente l'una dall'altra, salvo il diritto del risarcimento del danno. Perché di conseguenza lì dove la risoluzione si instaura di diritto per causa imputabile al debitore, e in questo caso se il debitore non dimostra la sua non colpa, dovrà risarcire il danno, perché avrà appunto generato un danno alla sposa. Risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa. Che cosa si intende per clausola risolutiva espressa? Questa è una clausola inserita all'interno del contratto, aborigine alla formazione del contratto, in modo tale che le due parti liberamente, durante la formazione del contratto, per la loro buona fede e correttezza, si sono dati un termine non in quanto temporale, ma in quanto di clausola risolutiva espressa. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. Quindi fino adesso abbiamo visto tutti i casi in cui, a una certa condizione, a un certo termine, a una certa diffida, non seguono altri fatti, e pertanto il contratto è risoluto, è risolto, è sciolto. Questi sono i principi del diritto civile nell'ambito dello scioglimento dei contratti di diritto tra parti private. Vediamo adesso invece tutto il flusso di lavoro che avevamo immaginato con sentenza, ovvero che una delle due parti, per sciogliersi dal vincolo contrattuale, che a forza di legge tra le persone che hanno sottoscritto il negozio giuridico e il contratto, devono riferirsi a un giudice per far emanare una sentenza che dichiari lo scioglimento del contratto. Nei contratti con prestazione corrispettive, l'articolo 1453 del Codice Civile ci dice quando uno dei contraenti non adempia le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Questa è una conseguenza naturale della logica, perché è evidente che se io chiedo la risoluzione non posso chiedere dopo l'adempimento, se chiedo l'adempimento posso però dopo chiedere la risoluzione qualora non sia più interessato all'adempimento. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Questo è il primo flusso di lavoro di una risoluzione contrattuale con sentenza, quindi con intervento del giudice. In adempimento, articolo 1453. Eccessiva onorosità, articolo 1467 del Codice Civile. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458, il che vuol dire che durante l'esecuzione del contratto, ad esempio una materia prima è schizzata alle stelle oltre la normalità, facciamo un esempio pratico, arriva la pandemia, noi abbiamo fatto un contratto un mese prima dell'arrivo della pandemia dove si identificava una certa prestazione, quella prestazione è divenuta eccessivamente onerosa, pertanto il debitore può sciogliersi dal contratto manifestando e dimostrando l'eccessiva onerosità che però deve essere attestata da un giudice. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto, l'alea normale del contratto vuol dire un aumento percentuale del costo, ad esempio, delle materie prime, che sia congruente rispetto a quello che ci si deve attendere nel mercato. Di conseguenza, se io acquisto un'automobile oggi e l'automobile mi viene costruita tra due mesi e le materie prime crescono normalmente e ordinariamente, non si può chiedere lo scioglimento del contratto per eccessiva onerosità anche se le materie prime fossero aumentate del 10%. Certo, se scoppia ad esempio una guerra e quella macchina per essere prodotta deve essere prodotta con un incremento delle materie prime del 2000%, di conseguenza si può chiedere la risoluzione del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto, cioè chi riceve la richiesta di risoluzione per questa motivazione può di conseguenza dire non voglio la risoluzione perché voglio l'adempimento, ma per farti adempire rimoduliamo il prezzo che ti devo pagare in congruenza rispetto all'eccessiva onerosità che tu lamenti. Impossibilità sopravvenuta, articolo 1463 del Codice Civile. Nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la sopravvenuta e impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta a secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. Questo è il caso in cui, ad esempio, non è proprio più possibile materialmente, non è divenuto solamente oneroso oltre ogni ragione, ma è proprio impossibile dare l'adempimento. Il caso di scuola che si fa in questo frangente è un pacchetto postale che all'interno di una nave tra shipment che viaggia tra un paese A e un paese B, quella nave affonda, va in un punto particolarmente profondo di 5.000 metri sotto il livello del mare, non è impossibile andare a riprendere quel pacchetto e non è neanche eccessivamente oneroso, è un'impossibilità oggettiva dovuta al fatto che non è un'impossibilità fisica, è un'impossibilità giuridica oggettiva. Quindi c'è quel limite di confine tra l'eccessiva onerosità che a un certo punto diventa impossibilità. L'impossibilità può essere di due tipi, oggettiva e soggettiva. Cioè, ad esempio, se c'è un contratto tra le parti per la realizzazione di un quadro da parte di un certo autore, e quell'autore viene meno, purtroppo viene meno, quel contratto e quell'obbligazione è divenuta impossibile. Abbiamo visto tutti gli effetti delle risoluzioni e tutti i flussi di lavoro delle varie risoluzioni nel codice civile, e quindi abbiamo capito come una persona, nell'ambito del contratto di natura privatistica, può chiedere la risoluzione, appunto, di un contratto. Recesso. Il recesso nel codice civile. In realtà il recesso va affrontato secondo due tipologie diverse. Il recesso nei contratti ad esecuzioni istantanee e il recesso nei contratti di durata. Se il recesso va a sanare una patologia come la risoluzione, assolutamente no. Il recesso va ad agire su un cambio di volontà. Cioè, se una delle due parti non ha più intenzione di mandare avanti quel contratto o di avere quel contratto, può chiedere il recesso. Facciamo un esempio specifico. Decido di comprare un televisore online. Quel televisore mi arriverà entro due settimane. Ho un diritto di recesso perché ho un diritto di ripensamento. Ho il diritto di dire, dopo qualche giorno dall'acquisto, di dire al fornitore e quindi al venditore guarda, non sono più interessato. Quindi esercito il mio diritto di recesso. Normalmente questi diritti di recesso vengono esercitati tutte le volte in cui l'oggetto è particolarmente sensibile ad un cambio di volontà, a un possibile cambio di volontà. Il diritto di recesso, come potete immaginare, deve essere sempre garantito nei contratti di durata. Perché? Perché io non mi posso legare ad un fornitore di un servizio come ad esempio Sky per il resto della mia vita. Io devo avere la possibilità di recedere da quel contratto quando lo ritengo opportuno. Sia quelli dei contratti ad esecuzione istantanea, sia quelli dei contratti di durata, il recesso è, dal punto di vista codicistico, identificato nel dispositivo dell'articolo 1373. Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Quindi stiamo parlando dell'esecuzione istantanea. Ancora prima dell'inizio dell'esecuzione, io posso esercitare il diritto di recesso. Nei contratti di esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita e salvo in ogni caso il patto contrario. Quindi vuol dire se ho un contratto ad esecuzione istantanea devo recedere prima del contratto se ne ho la facoltà, se invece è un contratto ad esecuzione continua di durata posso recedere a un certo punto del contratto, ma sono fatti salvi tutti gli effetti ovviamente del beneficio che ho ottenuto da quel contratto antecedentemente. Un caso specifico del codice civile è quello degli appalti di natura privatistica che qui vogliamo richiamare nel recesso il dispositivo dell'articolo 1671 il committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Quindi in questa fattispecie abbiamo capito che nell'appalto il committente può recedere anche dopo che ha iniziato il contratto quindi non ho l'obbligo di finirlo quel contratto ma devo far rimanere indenne l'esecutore di ogni tipologia di danno quindi devo pagare ogni tipo di prestazione che ha eseguito fino a quel momento ed eventualmente se me lo dimostra anche l'acquisto dei materiali che ancora non mi ha fornito ma che in realtà aveva acquistato per mio conto. Questo è il quadro generale degli istituti che vogliamo affrontare nel codice dei contratti pubblici che rinvengono invece nel codice civile risoluzione, sospensione e recesso la sospensione è un istituto particolare appunto del codice dei contratti pubblici la risoluzione che abbiamo visto negli articoli del codice civile invece nel codice dei appalti nel codice dei contratti pubblici è all'articolo 108 il recesso all'articolo 109 andiamo a vedere velocemente questi due istituti del codice dei contratti pubblici e cerchiamo di armonizzarli con le disposizioni che abbiamo imparato nel codice civile proprio adesso sospensione in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori nonché dello stato di avanzamento dei lavori delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione il verbale inoltrata responsabile del procedimento ovviamente qua stiamo codificando un caso in cui i lavori debbano essere sospesi per una ragione non desumibile all'interno del progetto non desumibile prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori e pertanto la direzione dei lavori o il responsabile del procedimento si accorge di questa necessità andando sempre molto velocemente vediamo che al comma 7 dell'articolo 107 le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili ai contratti relativi a servizi e forniture risoluzione per arrivare subito al cuore della questione e metterla in combinato disposto con le norme del codice civile articolo 108 dobbiamo ricordarci immediatamente qui che esistono quattro tipologie di risoluzione diverse nel codice dei contratti pubblici mentre prima erano sei qui il legislatore ne ha volute differenziare in maniera distinta quattro tipologie fatto salvo quanto prevista ai commi 1 2 e 4 dell'articolo 107 quindi della sospensione le stazioni appaltanti possono quindi questa è una prima tipologia ovvero una facoltà risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalta esensi dell'articolo 106 quindi vuol dire che di base in realtà la variazione degli importi o dell'oggetto del contratto è tale che bisognerebbe fare una nuova gara con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 comma 1 lettera b e c sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero attualmente con una serie di modifiche fatte durante l'esecuzione dell'opera si è modificato talmente tanto che in realtà quel contratto ha violato alcuni sbarramenti alcune soglie con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 comma 1 lettera e il predetto articolo e poi il disposto normativo va avanti nell'approfondimento appunto della fattispecie punto c l'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui è l'articolo 80 ovvero carenza dei requisiti morali soggettivi del contraente articolo 80 ricordiamo che è un articolo particolarmente incesivo particolarmente importante che va a trattare tutte quelle fattispecie che vanno a coinvolgere l'onorabilità del contraente l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questo che cosa vuol dire facoltà infatti abbiamo sottolineato il possono addirittura anche se vengono meno i requisiti dell'articolo 80 io potrei volere come pubblica amministrazione che l'appalto vada avanti senza soluzione di continuità e quindi non domando la risoluzione non voglio la risoluzione non dispongo la risoluzione cosa molto importante questa tipologia di risoluzione come le altre del codice degli appalti e vedremo la differenza è una risoluzione autoritativa cioè attraverso un provvedimento che incide unilateralmente sulla sfera giuridica del destinatario la pubblica amministrazione può decidere cosa intende fare e come intende farlo quindi sta esercitando potere quindi in base alla nostra domanda quali sono i poteri che residuano dopo la stipulazione del contratto la risoluzione ancora esiste così come codificata dal codice civile per il momento abbiamo un disposto normativo specifico che è l'articolo 108 comma 1 che ci identifica una fattispecie il comma 1 bis richiama l'inapplicabilità dei termini previsti dall'articolo 21 nonias della legge 241 quali sono questi termini sono quelli dell'annullamento d'ufficio che deve intervenire entro 12 mesi quindi sta dicendo guarda la risoluzione non deve essere fraintesa come il provvedimento di annullamento ex post per una illegittimità o qualche altra natura ha una natura completamente diversa e tu la puoi esercitare anche oltre i termini dei 12 mesi seconda delle quattro fattispecie che sono identificate le stazioni appaltanti devono invece quindi non è una facoltà ma un obbligo risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci quindi la qualificazione SOA che aveva per fare un determinato tipo di lavoro non è più valida è decaduta perché? perché erano state fatte delle dichiarazioni false quindi è talmente grave che ha partecipato a quella gara in quel modo con quella attestazione con quelle certificazioni non ne aveva diritto e quindi va risolto il contratto nei confronti dell'appaltatore si è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui ha il codice delle leggi antimafia quindi abbiamo capito quanto è penetrante il problema quanto è importante il problema e pertanto l'amministrazione deve risolvere il contratto terza fattispecie delle quattro il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto se nominato quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e gli formula altresì le contestazioni degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione della propria contradduzione al responsabile del procedimento quindi vediamo che c'è addirittura una disposizione testuale nei termini cioè i giorni del procedimento a questo punto la stazione appaltante su proposte del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto quindi in questo istituto il terzo dei quattro viene identificato in maniera inequivocabile un numero aperto di casi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali quindi sono tutti quegli obblighi dedotti nel contratto pubblico che non vengono rispettati dall'appaltatore e la stazione appaltante può risolvere il contratto infatti vediamo che non viene identificato nessun dovere il direttore dei lavori o il responsabile di risoluzione del contratto se nominato quando accetta un grave alle obbligazioni contrattuali da parte tale da compromettere la buona scena in via al responsabile acquisite e valutate negativamente le predette contradduzioni ovvero scadute il termine senza che l'appaltatore ha risolto il contratto il legislatore in questo caso specifico non ha voluto identificare se è un dovere non avendolo identificato la giurisprudenza ha chiarito che è una facoltà perché non ci sono gravi vizi che possano desumere come per esempio quello dell'antimafia o come quello delle dichiarazioni falsi un inadempimento in questo caso stiamo parlando di tutti gli altri inadempimenti quarto caso qualora al di fuori di quanto previsto al comma 3 l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto se nominato gli assegna un termine che salvo in caso di urgenza non può essere inferiore a 10 giorni entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni quindi anche in questo caso come nel codice civile c'è un termine per adempire una sorta di diffida una sorta di termine un rimando a un secondo termine quindi entro 10 giorni mi devi risolvere il problema nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito e allo sgombero delle aree di lavoro quindi abbiamo visto le quattro fattispecie facoltà dovere clausole aperte del contratto sottolineo del contratto perché sono tutti i casi di inadempimento del contratto i termini violazione dei termini queste sono le quattro fattispecie il recesso avevamo parlato prima di recesso ovvero scioglimento dell'obbligo contrattuale prima dell'inizio dell'esecuzione se siamo nel contratto di esecuzione istantanea durante l'esecuzione del contratto se siamo in un contratto di durata fatti salvi gli effetti antecedenti al recesso vediamo invece nel codice dei contratti pubblici come è disciplinato il recesso la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e le forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture oltre al decimo dell'importo delle opere dei servizi o delle forniture non eseguite il che vuol dire il recesso è ad libitum come si dice in gergo ovvero per volontà se la pubblica amministrazione a un certo punto motivando per i propri atti interni ma non motivando per l'appaltatore decide di recedere dall'appalto lo può fare pagando ovviamente tutte le spese sostenute più un decimo il 10% dei lavori non eseguiti perché un 10% perché l'appaltatore avrà fatto affidamento sull'utile di impresa che avrebbe realizzato realizzando anche le altre opere andando avanti nello sviluppo dell'articolo 109 vengono codificate le modalità di calcolo del decimo dell'importo delle opere non eseguite a un certo punto l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore quindi si stabilisce la procedura da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni dei corsi quali la stazione appaltante prende in consegna lavori servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture quindi capiamo ancora una volta che non c'è identificata nessuna motivazione di questo atto quindi lì dove si volesse emanare un provvedimento amministrativo la legge non dispone la motivazione in questo senso andrebbe vista e va approfondita la giurisprudenza se il recesso è davvero un atto di volontà pura senza doverosa motivazione questo la dottrina lo mette in discussione perché di conseguenza ed ovvio sarebbe una sostituzione della cosiddetta revoca in questo caso quindi abbiamo capito perfettamente quali sono gli sviluppi della risoluzione e del recesso sia nel codice civile sia nel codice dei contratti pubblici a questo punto ci dobbiamo domandare ma le due disposizioni si integrano e possono essere entrambe applicate sia quelle del codice civile che è quelle del codice dei contratti pubblici nell'ambito del codice dei contratti pubblici o soltanto le seconde possono essere utilizzate ovvero le disposizioni dell'articolo 108 e 109 del decreto legislativo di riferimento in realtà questa domanda è una domanda abbastanza complessa e risponde alla domanda se la tipizzazione dei casi statuiti all'articolo 108 o 109 sono in numero chiuso in senso generale o sono un numero aperto numero chiuso numero aperto che cosa vuol dire vuol dire se possono essere dedotte come vizi anche quelli codicistici del codice civile per risolvere o per recedere dal contratto pubblico in realtà su questo campo si confrontano due tesi diverse che sono due tesi entrambe meritevoli di apprezzamento a mio modo di vedere di cui una rappresenta che soltanto l'appaltatore può applicare le norme del codice civile e la stazione appaltante le norme del codice dei contratti pubblici mentre una seconda tesi più ampia rappresenta che entrambe le parti del contratto quindi sia l'appaltatore che la stazione appaltante possono applicare sia le norme del codice civile sia le norme del codice dei contratti pubblici queste due tesi ovviamente sono particolarmente importanti da conoscere per il semplice fatto che in una delle due la stazione appaltante non può recedere o risolvere il contratto secondo le norme del codice civile e quindi sarebbe una legge speciale quella del codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'applicazione del codice civilistico quindi la pubblica amministrazione avrebbe una serie di poteri unilaterali avrebbe una serie di poteri che possono essere esercitati anche per inadempimenti non del codice civile di risoluzione del contratto senza passare per un giudice quindi un potere più alto ma un potere limitato a casi specifici questa tesi è particolarmente apprezzata dalla dottrina perché in questa vicenda stiamo sempre parlando nella vicenda negoziale di una delle due parti che è una pubblica amministrazione quindi i poteri che vengono conferiti alla pubblica amministrazione come sappiamo sono poteri di carattere autoritativo e gli atti sono atti giuridici che incidono unilateralmente e manifestano la propria volontà la volontà della pubblica amministrazione e i provvedimenti essendo incisivi della sfera giuridica altrui devono essere sempre tipizzati quindi la dottrina più attenta in questo senso dice che il numero dei casi previsti per la risoluzione e il recesso è un numero cosiddetto chiuso e codificato e tipizzato dalla norma perché i poteri che vengono conferiti alla pubblica amministrazione devono essere sempre poteri tipizzati e anche lì dove le norme del codice dei contratti pubblici rimandano al codice civile ricordiamo in particolare l'articolo 30 del decreto legislativo 50 del 2016 rappresenta sempre salva diversa ed esplicita applicazione delle norme del presente codice si applicano le norme del codice civile ma nel presente codice ovvero nel codice dei contratti pubblici esiste la risoluzione quindi se esiste la risoluzione è norma speciale che sostituisce la risoluzione del codice civile o è norma che integra le disposizioni del codice civile su questi due piani si confrontano le due diverse tesi un contributo di particolare valore aggiunto a mio modo di vedere può essere rinvenuto su internet il recesso e risoluzione del contratto pubblico di appalto a cura della dottoressa Irene Coppola pubblicato nel 2017 in materia di istituzioni di diritto pubblico una riflessione sulla natura e sul principio della doppia impugnazione in campo processuale il paradigma dell'autotutela tra diritto civile e diritto amministrativo perché noi sappiamo che l'autotutela è la forza della pubblica amministrazione di far valere i propri diritti e diritti tra virgolette perché in realtà sta esercitando un interesse generale ma in maniera unilaterale senza dover passare attraverso l'esecuzione di un giudice o attraverso la volontà di un giudice o l'analisi di un giudice e pertanto può applicare se stessa la volontà che intende attraverso i provvedimenti provvedimenti atti giuridici unilaterali incisivi della sfera giuridica altrui e del destinatario soprattutto io vi ringrazio tutti questi contributi li trovate come sempre anche nei manuali che abbiamo pubblicato e vi saluto e vi auguro una buona serata grazie a tutti